vediamo oggi la tavola 47 proviamo a fare in assonometria isometrica un solido con il logo di facebook la vedete l'ho preso dal vostro libro di testo per cui questa immagine che vedete tratta dal vostro libro di testo praticamente pagina 197 troviamo la proiezione ortogonale già svolta di questo luogo in realtà è principalmente una figura piana e perché poi di fatto il solito soltanto uno spessore di due centimetri allora vedete dobbiamo trovare praticamente qual è diciamo così la geometria che consente di realizzare questa f stilizzata allora il criterio con cui lavoreremo è semplice ma intanto questa figura è diciamo così scritta in un quadrato che ha avuto questo lato qui di 146 e dopodiché vedete con questa immagine che è quotata ci sono praticamente tutte le dimensioni per cui in realtà potremmo costruire un reticolato vedete lungo queste linee in modo da poter poi dopo ripassare soltanto le parti che a noi interessano questa è in verticale questa in orizzontale le parti che a noi interessano per disegnare la f l'unica accortezza che dovremo avere poi è nel realizzare queste curve quindi le curve della f e le quattro curve agli angoli va bene quindi questo è quello che faremo quindi la sonometria esometrica la prima cosa che dovremmo fare è disegnare appunto questo reticolato di orizzontali e di verticali secondo le misure qui indicate per la lettera f ecco adesso questo è il reticolato piccolisco un pochino questo è il reticolato così come è fatto in base alle misure delle proiezioni ortogonali conviene che mentre voi disegnate tenete aperto il libro vicino a voi in modo da poter diciamo così misurare oppure leggere continuamente le misure esatte della quotatura del della nostra f allora andando avanti una volta che abbiamo praticamente rifatto questo reticolato incominciamo a diciamo così evidenziare la nostra la nostra f allora tutta la costruzione con le due h e poi iniziamo a ripassare con la mina f le parti che a noi interessano quindi iniziamo dalle parti più semplici e facciamo prendere corpo la nostra f da sotto occhio che questa linea è una linea inclinata ma noi abbiamo le dimensioni dalla dal dal logo votato andiamo ancora avanti e lasciamo praticamente soltanto le due parti che necessitano della curvatura quindi in questo modo abbiamo di fatto ripassato tutta la f per le parti che sono rettilinee vediamo adesso come fare per la curvatura allora qui c'è un cerchio diciamo così che a raggio due centimetri utilizzeremo il solito criterio quello che abbiamo usato già in passato per altre tavole siccome questo cerchio è in assonometria esometrica sarà scorciato essendo scorciato non sarà più un cerchio ma sarà una porzione di fatto di un ellisse per cui facciamo usiamo lo stesso criterio qui ho rappresentato sulla sinistra questo cerchio di raggio 2 ad 1 quindi la parte che mi interessa è questo quarto di cerchio a distanza 1 tiriamo sulla verticale misuriamo che 1 e 73 facciamo la stessa cosa qua misuriamo 1 e 73 in modo che avremo adesso almeno tre punti 1 2 e 3 da unire a mano libera volendo ne possiamo trovare anche un altro quindi unendo la mano libera viene una cosa di questo genere adesso con lo stesso identico criterio faremo il cerchietto piccolo qui e 4 cerchi al lato adesso non ho fatto la costruzione di tutti perché il metodo è esattamente lo stesso quindi con lo stesso criterio diciamo così raccordiamo questa f piccola da una parte raccordiamo gli spigoli a sinistra e a destra come sempre poi dopo la curva va disegnata a mano libera cercando di essere il più precisi possibile gli spigoli opposti saranno fatti esattamente con lo stesso criterio con lo stesso modo e dopo di che chiudiamo il nostro quadrato questo qui è diciamo la nostra nostro logo di facebook in assonometria e isometri adesso dovremmo dargli lo spessore di due centimetri allora noi in realtà qui ad essere rigorosi dovremmo dare uno spessore di due centimetri verso l'alto e che significa che dovremmo raddoppiare la f fare tutta una serie di operazioni in questo caso possiamo derogare diciamo così a questo criterio e due centimetri di spessore ridiamo verso il basso in questo modo in modo da non dover avere bisogno di ridisegnare un'altra f in quanto sarebbe nascosta per cui disegniamo verso il basso esclusivamente il quadrato con i suoi arrotondamenti disegniamo le due tangenti come abbiamo già fatto altre volte e chiudiamo la figura con le parti rettilinee e questo qui è il prodotto finale cioè la rappresentazione del logo di facebook in assonometria isometrica